ciao 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 tutti da Svideo! Giocciamo! Oggi è il compleanno di MDM Simo Simone, quindi, tantissimi auguri Tanti auguri a te, tanti auguri a te tanti auguri, Simone tanti auguri a te MDM Simone, tanti auguri Mi viene da mugire con questo copricapo Allora, attenzione, devo fare un po' di monete Monete, monetine, venite Che faccio? Cado Ma cado subito, così Allora, andiamo lì Che forse si fa meglio qua Oh, c'è proprio un coniglio rabbit Iconi di rabbit che scavano e escono fuori con le loro orecchiette 23esimo Mamma mia Ma non mi qualificherò mai Ma mi rubano tutte le monete Aia Mi fregano tutte le monete Mia, mia Mi 22esimo Non ce la farò mai 21esimo Sai, sto recuperando, sto recuperando Tanti auguri a Simone Tanti auguri a te Oh Oh E' di cesione Mia 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 dai che ce la posso fare quanto c'è di 9 secondi tredicesimo no 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 devo stare attento qualificato qualificato allora io mi dissocio con quel copricapo lì che c'è a svideo ma vai via ma perché non sono carino sono un po' bovino allora tanti auguri a Simone mdm simo giocava a fortnite adesso è un po' che non gioca spero che venga a commentare i video che così magari sentiamo un po' se è molto impegnato con la scuola o se può giocare delle volte venire nei server i forne aia no sono caduto giù no no non ce la farò mai più uffa niente niente è andata così è andata così è andata così è andata così e si sapeva che andava male uffa uffa io la sapevo io la sapevo io la sapevo io la sapevo comunque intanto voglio fare anche io tantissimi auguri a Simone mdm simo quindi tanti auguri tanti auguri tanti auguri però come fa ad essere amico di svito che quello lì è scarso 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 ma cosa c'entra ma cosa c'entra essere scarsi in un gioco l'amicizia non c'entra mica essere scarso o non scarso cioè cosa vai a dire aghi comunque guardiamo lo stesso come finisce la partita ma si guardiamo lo stesso come finisce la partita io vedo qua c'è un look emili wittac cuba nutria frank si nutre e invece lui nutria no no frank sinatra com'era la barzelletta no frank lui si nutre e frank sinatra vabbè vabbè lasciamo perdere allora eleni ha vinto va bene allora comunque io faccio tantissimi ancora auguri ancora auguri tantissimi tantissimi auguri vabbè costruzione della frase grammaticamente scorretta ma fa lo stesso auguri 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 a simone e festeggia bene divertiti passa una splendida giornata ciao e ciao a tutti quelli che guarderanno questo video ciao ciao